Velve Francesca Fagnani puntata stasera martedì, a che ora inizia, canale, dove vederlo in tv, ospiti e interviste Francesca Fagnani torna stasera, martedì 8 novembre, con una nuova puntata di Velve, scopriamo a che ora inizia, il canale e chi saranno gli ospiti protagonisti delle interviste di oggi. Leggi anche, Velve di Francesca Fagnani, chi è l'ospite che è scappato dallo studio urlando? Le parole della conduttrice Velve, quando va in onda il programma di Francesca Fagnani? Dove vederlo in tv, giorno e canale dopo il successo della passata edizione, Rai 2 ospiterà ancora il talk show Velve della conduttrice Francesca Fagnani, ma quando va in onda? Le puntate del chiacchieratissimo programma andranno in onda due volte a settimane, martedì e mercoledì. Salta la programmazione del giovedì, a che ora inizia? Orario ma a che ora inizia Velve e quando bisogna sintonizzarsi su Rai 2? L'appuntamento è in seconda serata a partire dalle mezzanotte meno 20. Velve interviste, ai sono gli ospiti dell'8 novembre? Ma chi saranno gli ospiti protagonisti delle interviste di Francesca Fagnani, durante la puntata di stasera di Velve? A dover sostenere le domande della conduttrice oggi saranno due donne. Stiamo parlando di Alessandra Celentano e Eva Grimaldi, e voi seguirete le puntate? Restate aggiornati con per scoprire tutte le news in merito al programma Velve, quando va in onda, a che ora inizia, gli ospiti delle varie interviste di Francesca Fagnani e dove vederlo in tv.